Presentata sabato mattina alle 11 al Lido la nuova lista per le amministrative del giugno 2024, la nostra Gozzano. Al timone l'architetto Carla Biscuola, già sindaco del comune Cusiano dal 2009 al 2019. Presenti l'onorevole Alberto Gusmeroli, Lega, l'ex presidente della regione Piemonte Roberto Cota, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, l'ex sindaco della città capoluogo della Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.